Il dubbio dantesco non nasce dalla sfiducia, ma dal desiderio di accogliere la verità, dopo averla compresa, per non avere più indecisioni. In questa apparente calma del dialogare avverti come si colorano le espressioni ai pensieri e come la materia dottrinale diviene poeticamente didascalica, nella salda concezione di una cosmografia che lega in unità i cieli astronomici con i cerchi delle gerarchie angeliche. Dante osserva che tutto per lui sarebbe chiaro se uno stesso ordine associasse il mondo sensibile, i cieli planetari, e il mondo sovrasensibile, i cerchi angelici. Se cioè velocità e luminosità nell'uno e nell'altro dipendessero da un'identica legge, a seconda della distanza del centro, che per i loro pianeti è la Terra e per i corri angelici è Dio, il punto.